amici di voce di napoli ciao a tutti abbiamo il piacere di avere qui un trio direttamente da made in sud sono tutti amati dei napoletani simone schettino io tra l'altro sono emozionato perché mi aspettavo che in trentino parlavano tale quale a noi veramente una cosa straordinaria cioè fino ad oggi mi hanno tutti scemitati no chi lo vuoi a non loro lì voi ad esempio dove siete per chi lavorare centro per voce di napoli in quartiere di spagnolo e televisione tale qua tale quale proprio è straordinario dopo abbiamo pochi per i musso la specialità del posto siamo partiti subito alla grande poi c'è qui con me ma nella produzione sì la produzione di me in sud allora abbiamo portato questa sera abbiamo simone schettino che è una delle punte di diamanti del nostro programma e poi c'è valerio giovine che fa parte della nostra famiglia da pochissimo tempo e stasera presenteremo in esclusiva abbiamo fatto tutto questo il nuovo disco di valerio che è prodotto da noi che è in assenza di gravità quindi per la prima volta a dimaro sentiremo i nuovi pezzi del disco che da ieri da ieri l'altro stanno su itunes insomma è già stato un grande successo sui social su internet insomma valerio sta avendo un grandissimo riscontro noi ci stiamo affacciando anche pian pianino con la musica stasera è un connubio veramente di due titani presentati da francesco mastandrea insomma è un trittico che secondo me farà molto divertire ballare tutto il pubblico di dimaro insomma una vera chicca per chi è qui a assistere al ritiro del napoli ragazzi voi siete appena arrivati quindi chiedervi che impressione la vita di questo ritiro un po banale ma un po di atmosfera azzurra però l'emozione comincia quando arriveremo sul campo e vedremo gli azzurri perché poi la prima cosa è che noi siamo tifosi da Napoli e quindi veniamo a portare qua la nostra arte ma con estrema gioia perché c'è c'è un risultato finale che è la gente nostra che sta a ca e quindi l'amore si completa tra l'altro tu padre lo sei uno dei protagonisti di quel bellissimo pezzo che gente rosud che è stato molto virale oggi sei qui al nord e quindi che senti da questo punto di vista ma gente rosud mi fa piacere che hai ricordato questo pezzo però ce ne sono tante la mia musica è fatta le parole della mia musica raccontano il sud raccontano la mia vita al sud per cui in questo momento comunque dimaro e sud italia comunque lo vediamo dagli striscioni che stanno in giro e perciò è un onore grande per me essere per il secondo anno di seguito tra l'altro qui non avete a trento quando gioca il napoli simone che c'è sembrava una curva del san paolo devo confessare sono andato qua anche per uno studio sociologico perché chi chiaramente viene in vacanza d'estate appresso alla squadra di napoli non sono tifosi ma sono un malattro napoli proprio chi li laga su chi lì che ti vanno quando sono stessi campionati fanno capo in muracasi stragi in famiglia e allora io l'ho già studiato proprio da vicino sono proprio veramente si va oltre la passione su chi lì che chiamano i figli di Carmando Lorenzo addirittura dato che a Mertens Dries non suonava tanto l'hanno chiamato Ciruz hanno cagnato loro un homme a Mertens eccoci qua molto piacere eccoci ma rivedo contentissimi ma anche io grazie e poi mi fai ritrovare degli amici che sono dietro la telecamera quindi sono bravissimi ci seguono e sono pazienti vabbè allora niente stasera facciamo un po' di casino questo è sostanzialmente lo facciamo alla buona napoletana come piace a noi quindi vi aspettiamo in tantissimi non so se in questo momento possiamo interagire anche dal punto di vista della diretta no siamo registrati però va bene se allora l'avete vista e ve la siete persa peccato dovete venire l'anno prossimo qui perché vedrete delle immagini di quello che riesce a combinare Valerio con la gente con la musica Simone con la comicità io mi limito a fare da collante punto questo è quanto vi aspettiamo io volevo anche svelare una piccola sorpresa un piccolo regalo che abbiamo fatto a Massandrea avrà una tripla Issa, Mugliere e Coulibaly auguri Massandrea veramente no questa è una cosa che se avete dato sicuro è per l'amor di Dio ma non tanto per mia moglie quanto per Coulibaly no non è vero questo è una doppia sta solo Coulibaly a Muglier va bene chiudiamo qui ragazzi ve lo devo chiedere questo è quello che succede prima dello spettacolo in chiusura che vi aspettate da Napoli quest'anno no a Napoli non ci sono per nulla aspettative la gente ha già fatto il torto con il scudetto e la con la congelata non ci fateci i tassi torto grazie ma io come ogni anno continuerò a sognare come tifoso però sono in assenza di gravità con l'album però sul Napoli cerco di tenere sempre Piero Pettere perfetto ragazzi vi ringrazio e non succede non succede ma se succede forza Napoli allora Pettere atmospherici asker